ecco questo è un altro modo super valido che mi piacerebbe poter avere anche nella realtà direi negli ultimi giorni dato che ho un pallone al posto della guancia madonna mia sento male comunque oggi è un po' meno gonfio rispetto a ieri che proprio a parte il dolore che ho sentito tutto il giorno che mi prendeva la testa ma proprio sembrava mi fossi messa una polpetta solo nel lato destro del viso terribile raga terribile non vedo l'ora di domani spero di andare al dentista di risolvere il problema perché è terribile allora amici miei facciamo capire a rebecca che adesso è arrivata taranto beata lei che lascia l'accesso più cool del mondo perché è bellissima lo stesso vi lascio con greta ciao finito ora sono fradice la tengo l'asciugamano perché sono bagnatissima l'armene mi ha ucciso come sempre ma sono troppo soddisfatta troppo ti voglio tanto bene mi uccidi sempre mi stai un po' in quel posto però non potrei senza di te grazie grazie grazie